eccoci qui per una nuova recensione vi porto questa bellezza torniamo in casa bulova ragazzi miei guardate che bellezza bulova star jet spettacola mi sono fatto dare l'orologio dagli amici di orologi lt sono due cari ragazzi che ho incontrato di nuovo alla fiera che abbiamo fatto a napoli fiera che è andata una bomba c'è anche il video qui se volete vederlo ogni volta che comunque mi vedo con loro mi faccio sempre lasciare qualche orologio vi consiglio di andare sul loro sito che hanno spesso e sempre tutti gli orologi best seller cioè quindi quegli orologi che un po tutti vogliono comprare perché sono fatti bene perché magari hanno un buon rapporto qualità prezzo poi loro trattano anche squale trattano citizen trattano longin trattano comunque un sacco di marchi e hanno sempre disponibili i modelli quelli la più ricercati questo orologio mi è piaciuto molto anche perché è difficile non farselo piacere e me lo sono fatto dare per fare una piccola recensione veloce ovviamente non è una recensione d'uso ma è semplicemente una recensione un orologio alla mano per dirvi un pochino come è fatto qua nel condominio gridano quindi state sentendo un pochino tutto però non fa niente vi consiglio di andare sul loro sito e di contattarvi in privato dicendo che avete visto questo video magari per uno sconto particolare che vi faranno che vi faranno per quanto riguarda il canale ragazzi stiamo crescendo abbiamo superato i 4000 sono molto molto contento per voi magari è una cosa banale però per me è molto importante se mi seguite se mettete un like a video e se comunque andate a vedere qualche video vecchio guardatevi quello la della fiera perché ho fatto vedere delle bombe veramente veramente assurde orologio come vi dicevo che mi è piaciuto molto e lo andiamo a vedere nella recensione vai allora ragazzi eccoci qui con il nostro con la nostra scatola vi faccio vedere anche la scatola perché comunque bullo vale ha cambiato un po io ho recensito più di un bullo ma in passato ho recensito il curve e ho recensito anche un altro orologio con sempre frequenza alta ma non mi ricordo adesso che modello era però recensito più di un bullo va tra l'altro ne ho un in collezione molto molto bello 77 50 magari dopo ve lo faccio vedere perché non l'ho mai recensito se non erro allora abbiamo la scatola una scatola semplice però un pochino diversa da quelle la vecchia è un finto legno però fa il suo lavoro comunque protegge il nostro orologio allora vi faccio vedere questa bellezza eccolo qua ragazzi che cosa dire estetica centrata in pieno abbinamento di colori forma della cassa non c'è nulla in questo orologio che non secondo me è bello se vogliamo parlare a livello estetico guardate qua spettacolare abbiamo una cassa da 40 mm sono una misura giusta ragazzi abbiamo sempre sto fatto 38 36 40 mm su questa cassa di forma stanno molto molto bene abbiamo 12 mm e mezzo di altezza più o meno 150 grammi è il peso dell'orologio e andiamo a vedere un attimo il lag to lag perché non l'avevo visto giusto velocemente siamo intorno ai 45 mm di lag to lag abbiamo un cinturino di qua ve le faccio live perché non l'avevo viste cinturino da sono 20 si cinturino da 20 orologio molto molto equilibrato mi piace tantissimo la forma della cassa e del vetro guardate che forma c'ha questa cassa ragazzi e vi volevo dire che questo orologio comunque omaggia il modello del 73 quindi comunque anche per bulova abbiamo recensito pure il mondia top second anche per bulova c'è un ritorno agli anni 70 questo lo potete vedere dagli indici che anche qui sono molto lavorati e molto molto belli ragazzi gli indici degli anni 70 sono i più belli secondo me che hanno mai fatto nella storia dell'orologeria perché sono indici molto molto curati molto molto di foce scolpiti proprio sull'orologio guardate qua anche le sfere qui sono molto molto belle vedete c'è una linea nera poi un po di pasta luminescente un'altra linea nera un orologio secondo me che si fa apprezzare guardare molto ve lo voglio far vedere già subito al polso tra l'altro guardate com'è bello anche il diapason qua nella chiusura andiamo un attimo con calma perché comunque ci sono tutte le maglie ecco qua guardate questo orologio al polso questi 40 mm cosa vi fanno? il bracciale è anche molto particolare un misto fra satinato e lucido maglia molto molto particolare intanto una maglia tutta piena con terminali pieni abbiamo anche lo sgancio rapido qui per il cinturino cosa molto comoda e ovviamente abbiamo un fondello chiuso ma qui il movimento non è un automatico ma è un movimento che di cui già abbiamo parlato un movimento bulova ad alta frequenza che bulova fa già da più di dieci anni questo qui c'è anche sull'unar pilot vedete c'è la scritta ovviamente 262 hertz vedete la sfera dei secondi come va praticamente fluidissima guardate più fluida praticamente anche di un 36.000 alternanze è eccezionale che cosa hanno fatto? una cosa spiacevole dei movimenti al quarzo è il fatto di avere i secondi morti dei movimenti al quarzo quelli che vanno diciamo a 32.000 hertz sono i secondi morti invece in questo caso qua portando la frequenza a 262 kHz guardate qua praticamente otto volte quella là di un quarzo normale abbiamo la sfera dei secondi fluida ed è morto a questo problema tra l'altro questo regala anche una grande precisione a questo orologio se non mi sbaglio 4-5 secondi al mese è una cosa del genere ma veramente hanno fatto un lavoro in bulova per portare secondo me il quarzo al giusto posto a quel posto che merita quindi questo qui è un rinnovamento della tecnologia che porta il quarzo secondo me a prendersi il posto che merita perché i quarzi ragazzi sono orologi che vanno bene vanno molto molto bene tra l'altro ci sono dei quarzi spettacolari anche esteticamente in questo caso qui abbiamo comunque non so se questa è la versione 7 o 12 rubini perché ne ho recensiti diversi di movimenti del genere però comunque è un movimento che è fatto bene costruito bene per durare e guardate qualche bellezza questa sfera dei secondi che corre così per quanto riguarda questo modello abbiamo il quadrante grigio e tutti gli indici dorati un abbinamento di colori azzeccatissimo indici che mi piacciono molto data ad ore 3 andiamo a regolarla vedete molto molto fluido nella regolazione della data con due scatti comunque c'è il fermo macchino ovviamente andiamo a regolare il l'orario sfere che mi piacciono molto così è ripartito come vi ho fatto vedere la cassa anche mi piace molto abbiamo la corona con il diapason di bulova e la chiusura del cinturino come vi ho fatto vedere anche curata tutta piena un orologio che mi è piaciuto non ho veramente nulla da dire abbiamo una resistenza di se non erro perché mi sono scritto un po di cose 30 metri questa qui è l'unica nota dolente perché avrei preferito sicuramente anche visto il fondello comunque serrato a vite avrei preferito almeno avere i 50 metri io sono amante dei 100 metri minimo ragazzi però avrei preferito avere i 50 metri ma questo qui non è un orologio che dobbiamo portare sicuramente in acqua il vetro è in zaffiro quindi vetro che anche essendo leggermente sporgente ci garantisce sicuramente di non essere graffiato e abbiamo un bel cinturino che si sgancia rapido tutto a cielo 316 l orologio molto molto bello se non erro siamo intorno ai 429 euro di prezzo prezzo che sono è molto al fuoco per questo orologio perché c'è della qualità bulova vi garantisce anche un grande servizio di assistenza ma comunque con gli amici di orologi lt non avete problemi come vi ho detto potete contattarli in privato e dici che avete visto questo video vi faranno uno sconto riservato per il canale guardate qui che spettacolo ci vediamo al prossimo video mi raccomando seguitemi e iscrivetevi al canale ciao